Anticipazioni una vita, Thelm fa un gesto estremo per salvare Lucia da Samuel.Arriva finalmente la dichiarazione d'amore di Thelm per Lucia, nelle prossime puntate italiane di Una Vita Scendendo nel dettaglio, il sacerdote di Acacias si rende conto di essersi innamorato della Alvarad e dimostra di essere disposto a tutto pur di allontanarla da Samuel Infatti, quest'ultimo è sempre più intenzionato a iniziare una nuova vita a fianco di Lucia La ragazza, però, non sa che lo scopo dell'Aldai è quello di sposarla per riuscire ad avere tra le mani la sua importante eredità A capire le sue intenzioni è proprio Thelm, il quale ha finalmente di fronte tutta la verità Attraverso la confessione dello strozzino Imen Batan, il sacerdote scopre che Samuel ha fatto annullare il matrimonio con Blanca, al fine di sposare Lucia e impossessarsi del suo patrimonio La cugina di Celia sembra essere sempre più legata a Olaldei, tanto che accetta di farsi corteggiare da lui A questo punto, per salvarla, Thelm è costretto a commettere un gesto estremo Una vita anticipazioni, Thelm confessa a Lucia la verità su Samuel Un gesto estremo quello che compie Thelm Scendendo nel dettaglio, durante la processione in onore della Vergine dei Miracoli, il sacerdote obbliga Lucia a seguirlo in una chiesetta abbandonata Inizialmente, la Alvarad rappare spaventata per l'atteggiamento tenuto dal nuovo parrucco di Acacias Infatti, sembra non essere disposta neppure ad ascoltarlo Nonostante ciò, Thelm riesce comunque a trovare il modo per spiegare a Lucia cosa sta realmente accadendo dietro le sue spalle Non solo, il prete si dice ancora convinto che l'Aldei sia il responsabile della morte del suo padrino, Joachim A questo punto, Thelm è costretto a tradire il segreto della confessione e rivela a Lucia quanto scoperto da Betton Anticipazione una vita, Thelm dichiara il suo amore a Lucia.Thelm svela a Lucia quali sono le reali intenzioni di Samuel La cugina di Celia appare spiazzata di fronte alle parole del prete. Nonostante questo, la Alvarad crede finalmente al sacerdote Ed ecco che arriva una dichiarazione d'amore da parte di Thelm, il quale le confessa che sta agendo in questo modo perché prova dei sentimenti nei suoi confronti Lucia non vuole tornare subito ad Acacias, tanto che chiede al prete di trattenersi con lei per qualche ora, all'interno della chiesetta abbandonata Lucia non vuole tornare subito ad Acacias, tanto che non vuole tornare subito ad Acacias, tanto che non vuole tornare subito ad Acacias